Salve amici, fratelli della congrega e benvenuti a una nuova super stronzata del Genius Pop. Ma ascoltiamo questo ritornello straordinario. Ascoltiamo, ascoltiamo. Makes you happy! If it makes you happy! Vabbè, abbiamo ascoltato. Questa era la sigla, se non sbaglio. Ma potrei confondermi anche con un'altra canzone. Ma mi pare la sigla del bellissimo di Roto 4, no? Ecco. If it makes you happy! Sì, poi la gente cantava perché non conosceva le parole. L'estetica berlusconiana ha devastato anche il cinema. Eh sì, dobbiamo a Berlusconi. A proposito di Berlusconi, non so se avete visto il finale di True Detective. Segue il sentiero della sposa. Questa è Carcosa. Sì, Berlusconi portava tutte le sue donnine a Carcosa. Un posto misterioso, diciamo. E alla fine del tunnel, diciamo alla fine più che altro del festino, Berlusconi mostrava loro qualcosa di veramente eroso. Ecco, dobbiamo a Berlusconi un'intera generazione, anzi due generazioni, forse anche tre, di spettatori analfabeti a livello cinematografico. Con l'invasione delle sue televisioni, con la bieca, dico bieca, scusante, non scusate, scusante, che non erano a pagamento, ma appagavano, ma campavano sull'esistita, aberrante, dico aberrante, invadendo pubblicità dei più squali di prodotti commerciali, che andavano dai pannolini, agli assorbenti, sino ad arrivare, dico sino ad arrivare, ai clisteri, allo shampoo al balsamo, contro le doppie e triple punte, e in deruzione delle scene cliffhanger, cliffhanger, Jerry, 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 Jerry Scotti, cliffhanger, che non è un bingo stallone, tanto per spezzare tragicamente la tensione, ammorbidendoci nel consumismo più volgare, Berlusconi sin da subito ci ha ammorbato, non ammorbidito, ammorbato, e cronembergianamente ci ha avvelenato nel suo sceno videotrom, rendendoci cervelli animalizzati nella carne del suo terrificante circo, e zo, zo degli orrori, una tv-tv dolcificante, sia a base di saccarosio carnale, trasmessa dall'etere alle coscienze, più deboli che come sotto l'effetto di un'ipnosi mortificante e alienante, distorsiva e pericolosa, hanno sin dal primo fotogramma falsato e contraffatto il fotogramma, abboccato alla sua estetica deformante, proprio grottesco, uno storpiamento di tutto. Allora imberava, imbazzava appunto la sigla di D, non la sigla della canzone, D, ormai si dice il film di Pacino, il film di Nicolas Cage, quindi la sigla di Sherry Crow. L'estratto del ritornello della sua canzone positiva, era alle grandi, ma lo conoscete il significato di questa canzone? andata ad anticipazione del bellissimo, presentata dalla tetone Emanuela Folliero, che recitava, filthy pappardella, a sua volta i lisir di pillole liofilizzate recensorie, Estrapolando i pezzi del dizionario Mereghetti, o peggio i trafiletti da sorrisi e canzoni. Ecco appunto sorrisi falsissimi, androidi, da replicanti perfetti delle emozioni patinate, impiantate nei nostri ricordi di tutta una vita. Tutta... già così stuprati, snaturati, mistificati a mercanzia di una... forza di una total recall, la total recall, delle nostre anime contagiate appunto dal morbo Berluscon, al che scorrevano i slideshow, i volti arcinoti dei nostri beniamini e si andava dall'onnipresente elegantissimo Michelle Pfeiffer. Ah, perché Michelle Pfeiffer è bellissima appunto. E allora la mettevano nei bellissimi. Delle relazioni pericolose, l'età dell'innocenza, Sean Goner e me pare di Indiana Jones l'ultima crociata. No, non era quello del nome della Rose, a proposito di Carcouse, era quello dell'ultima crociata e via dicendo, se non ricordo male, eh sì, io soffro di amnesia. Così dicono, in un pasticciato e indossicante assemblaggio, assiepamento random, random, di star riconoscibilissima al contempo sbilita, in tanta colorata ma monogrammatica, piattente gallery, impersonale. Sì, perché senza alcuna cognizione di cause, giusto per l'alloccante, dico alloccante, gusto di reidratare, dico reidratare, attori già inflazionati o persino noiosi, li si reduplicava, dico, li si 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 reduplicava, nel riproporle a scadenze settimanali o mensili, creando un'ignobile poetica d'attore. No, non era poetica d'autore, poetica d'attore, se avete capito bene, al che De Niro, anonimizzato ma allo stesso tempo ipermitizzato, lui, De Niro, stasera c'è un film col più grande, il più grande di tutti, mistificato, monumentalizzato, magnificato e dunque depersonalizzato, veniva surrogato in Maratone De Niro, a proposi di Maratone, la famosa battaglia di Maratona, non è che da lì che si dice Maratona, adesso abbiamo le Maratone Mentana, dovete sapere che invece la scorsa notte ho fatto la Maratona Mentina, mentine, sì, non prendeva sonno, a volte soffro di insonnie, al che mi sono svegliato, ho aperto la menzola, diciamo, ho visto delle buone caramelle, l'Eucaliptol, me ne sono mangiate una, come si suol dire, una tira l'altra, e ho passato tutta la notte mangiando le mentine. Questo si chiama Maratona Mentina. Ecco, le Maratone De Niro, avvicendamento di 4-5 film presi a caso a sua filmografia, come viene, viene, decontestualizzate in una successione casuale, anzi a casaccio, di performance scollegate, sì, dopo Taxi Driver, che ne so, uno si sarebbe aspettato a vedere naturali sue evoluzioni scorsesiane, forse Toro Scatenato, ma no, Raging, Raging Bull, era un film troppo iperrealista e violento per le reti media, e allora programmavano, programmavano, Brasil, Brasil, in cui si vede solo per 10 minuti, ma attualmente fanno ben di peggio, trasmettendo quei bravi ragazzi, Goodfellas, e dopo 15 minuti, 15 minuti, Follia Omicida a New York, grande, grande film di John Herzfeld, oh, straordinario questo regista, ed è per questo che la gente si accalca a vedere Escobar, Escobar con Bartem, Javier Bartem, perché ci sono Bartem la cruz, quella copia fessa nella realtà, eh, prosciutto, prosciutto, un'estetica da rotocalco, sì, un filmetto se l'è romanzato banalissimo, escondato più delle cosce oramai decrepite, decrepite di Patrizia Rossetti, quella porta sempre Rossetto, poi su Italia 1 davano notte horror, una bella intuizione, peccato se passasse da Shining a Pat, Pete, Pete Sambra, se no, Pat, Pete Cemetery, 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 insomma, ma c'era scritto, sono entrato, sono, sono tratti entrambi da King, sì, prima de Kubrick, sta lì, secondo di tale Mary, Mary, è una donna questa qui, Mary Lambert, è la sorella di Christophe Lambert, no, ed è una rubaccia schifosa che davvero ti rende un cimitero vivente, perché è talmente inguardabile che induce al suicidio, induce al suicidio? No, alla depressione più mortifera, da lapide del tuo amore irrecuperabile. Comunque negli Stati Uniti ci battono, eh? Adesso va l'assurda modo dei tribute, tribute, dei tribute, pigliano come sempre un attore l'omaggiano a mo' di madonnina, santificandolo in fotogrammi ageografici, dico ageografici, non geografici, ageografici, che catturano la sua migliore espressione figa, quando è figo, li presentano pure agli Oscar, e poi vi stupite che la gente legge poco e fa le boccacce su Facebook, con un fotografo i suoi lati B, cioè i culi, diciamoci, i culi da urlo, da urlo su Instagram, ed è per questo che quando vedete un capolavoro siete talmente abituati ad aver schiacciato tutto, plastificato ogni coscia, ogni cosa che mugugnate un... Sì, bellino, carino, 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 mio carino, lo dico semmai a un animale domestico, peraltro non mio, perché, insomma, se uno si vuol tenere un gun gas, vabbè, non ha un film di David Lynch, a proposito Lynch, a prescindere dalla serie Twin Peaks, che è stata ed è un fenomeno anche di massa, gli unici due film che hanno dato di David sono una storia vera, a story story, perché è un film che capiscono tutti, che c'è da capire, il vecchio prende un trattore, vabbè, è Mulholland Drive, attente la pronuncia Mulholland Drive, perché Laura Haring ha caspirata, Haring ha delle belle gamme, anche di sé non sta messa bene, e poi l'amore lesbico fa sempre scop scopar, a proposito di scopare, no, non c'entra molto di scopare, scop scop, ho detto tutto, mitico vai, Richard, non cambiare canale è sempre buono, Richard, Richard, a me non pare tanto buono adesso, mi pare vecchiotto, ma più bravo comunque, non mi interessa che sia bravo, poi non è vecchio, è buono, Richard, lui è sempre buono, poi c'era quell'altro, quell'altro film imperdibile per le donne sui 40-45 anni, casalinghe, Ghost, Phantasm, con Patrick Schwartz, povero Patrick che è morto da cancro, mi pare, no, Patrick Schwartz, altre canzoni che tutti cantano senza conoscere una sola parola, touch, il touch forse lo conosco, touch, only you, anche only you, only you, only you, ma vedanà